Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e d'oggi ragazzi siamo tornati in un nuovissimo video come vedete ragazzi la qualità è diversa, la qualità audio è diversa anche se forse si sente leggermente basso purtroppo non riesco a togliere questo microfono da qua vedrò se riuscirò a trovare un'altra impostazione del microfono comunque fatemi sapere se si sente bene, se si vede bene, quello sì perché sto usando le cose che uso per fare le live in streaming, le dirette su YouTube quindi seguitele quando ci saranno vi volevo dire due cose, una è che appunto vedete qua ho un po' l'occhio nero così ma appunto facendo arti marziali succede a volte in allenamento, non è successo niente, non vi preoccupate seconda il video di oggi, come avete visto dalla copertina e dal titolo oggi parleremo di due mostri sacri della profumeria artistica stiamo parlando di Megamare e Terroni ragazzi, avete capito bene? entrambi appartenenti al brand di Orto Parisi con il naso profumiere che è Alessandro Gualtieri che sapete essere il mio naso preferito oggi vedremo la contrapposizione di mare e terra o comunque la potenza del mare contro la potenza della terra, dei vulcani vedremo contrapposti e ad analizzati questi due profumi lo so, ho già fatto il video con questi due profumi infatti potete vedere la classifica di tutti gli Orto Parisi dall'1 al 9 ve la lascio qua in alto, vi linko sia la parte 1 che la parte 2 di seguito quindi se voi non l'avete ancora visto andate a vedere la mia classifica su questo brand oggi sì, andremo comunque ad analizzarli nuovamente, è vero ma in modo più specifico e in modo selettivo infatti ho deciso di analizzare singolarmente sia tutti gli Orto Parisi sia tutti i naso matto ecco, con il naso matto l'ho già fatto, con gli Orto Parisi ora lo farò quindi che dire, iniziamo da quale dei due? iniziamo da Terroni dai, il nuovo arrivato ragazzi questo è l'ultimo mio acquisto che ho fatto in generale e tra l'altro è l'ultimo acquisto che ho fatto anche appunto degli Orto Parisi guardate qua che colore, dovrei anche modificare un po' le luci comunque fatemi sapere se vi piace di più questa rispetto all'altra in quadratura comunque Terroni, eccolo qua, Terroni di Orto Parisi il mio ultimo acquisto, come vedete, è colore rossiccio qua c'è scritto Terroni, qua dietro Orto Parisi qua Parfum, 50 ml, 1.7, 11, comunque cose del genere il tappo, come vedete, è fatto come se fosse tipo pietra lavica, magma comunque, vedete, come se fosse diciamo il magma appena uscito delle rocce vulcaniche e appunto è fatto così il resto molto pesante, sapete l'attenzione che ci mette Gualtieri per i suoi tappi, per le sue bottiglie semplici ma molto rifinite comunque Terroni, come spiegarlo? allora, facciamo così, facciamo così quest'oggi wow, wow, wow un cioccolato amaro, probabilmente, con una parte molto molto densa dell'oud, probabilmente questo oud, insieme a questa parte più cioccolatosa, lo rende quasi catramoso ricorda un po' quei sentori catramosi che appunto ricordano, possono ricordare durante l'eruzione vulcaniche o comunque i vulcani nei dintorni, ecco non sono mai stato di fianco a un vulcano, vicino nei pressi di un vulcano però, se io con la mia testa provassi a immaginarmi una scena di un vulcano con queste rocce magmatiche, con queste rocce vulcaniche io mi immaginerei esattamente quello che rappresenta Terroni questo sentore catramoso, oud, cioccolato amaro che parte subito con una nota acida appunto del cioccolato, la nota più acida perché non è un cioccolato dolce, assolutamente, è un cioccolato acido per poi proseguire con la parte più, diciamo, sporca che viene rappresentata appunto da l'oud che appunto attribuisce a questo profumo dei sentori fumosi, molto fumosi ma anche leggermente dolci, devo star sincero l'ho messo in seconda posizione, come vi ho detto, nella classifica degli Orto Parisi ed è, secondo me, appunto, al secondo posto, uno dei migliori di Alessandro Gualtieri a mio parere questo, appunto, il richiamo che voleva lasciarci Alessandro Gualtieri era proprio quello dei vulcani e a mio parere ci è riuscito in pieno questo richiamo è davvero azzeccatissimo quindi, che dire, questo era Terroni il re della terra, dei vulcani, del fuoco vi consiglio assolutamente, se ancora non l'avete fatto di andare a sentirlo in profumeria e niente, vi consiglio di spuzzarlo sulla pelle perché loro evolvono davvero interessanti e davvero molto quindi provateli sulla pelle, questo è un consiglio non più di due, tre spruzzi, mi raccomando questo era Terroni, andiamo subito a Re dei Mari nel regno degli abissi, con Megamare ah, non ve l'ho detto, Terroni, a mio parere, si può benissimo usare in autunno, inverno e basta primavera, estate no, assolutamente per me, eh, per me autunno, inverno, secondo me, è la sua stagione la stagione migliore per utilizzare questo profumo bene ragazzi, passiamo ora invece all'altro profumo eccolo qua, Megamare di Orto Parisi come vedete, il colorito è un po' verde acqua, bluastro il tappo di Megamare è assolutamente, è assolutamente interessante guardatelo qua con questa pietra che, non mi ricordo, madre perla mi sembra sia, qua sopra il tappo e la rifinitura del tappo è in questo modo quasi, come se fosse, diciamo, arrugginito questo, questo profumo Megamare, ecco, eh, come vi dicevo per Terroni, loro due hanno una scia davvero mostruosa davvero arrogante e potente quindi state attenti quando indossare Megamare allora, Megamare, molti lo utilizzano appunto anche questo, mamma mia anche questo lo utilizzano in inverno, in autunno, in primavera ma ragazzi, per la sensazione che lascia questo profumo io personalmente lo utilizzo nelle sere d'estate è potente? Sì bisogna dosarlo? Sì, chapeau però con uno, due spruzzi io lo uso benissimo nelle notti, nelle sere estive perché il ricordo che mi dà è proprio questo la sensazione che mi dà è proprio questo un mare in tempesta, notturno con alghe, con muschi davvero forti e persistenti con appunto un cielo, un mare in tempesta ricordandomi quello, anche quando ad esempio vado al mare o comunque sono qua in città io Megamare lo utilizzo nelle sere estive molti non sono d'accordo con me ma io, per la sensazione che mi dà per il ricordo che mi dà per quello che voglio sentirmi addosso Megamare lo utilizzo in quelle occasioni su Megamare, come sapete, ci sono un sacco di misteri sulle note presenti all'interno di alga, di pesce, di quello che volete ma ovviamente nessuno sa con certezza le note presenti all'interno ma solamente Alessandro Gualtieri il naso potrà dircele quindi sì, io sento le provo a ricercare ma neanche più di tanto le fragranze che non presentano le note olfattive in piramide io semplicemente le sento e le analizzo per quello che sono non concentrandomi appunto su delle note particolari sì, Megamare è un marino? sì, ma non il solito marino è salato? sì, ma neanche troppo io lo vedo più dolciastro più anche fresco perché comunque questa nota dell'alga probabilmente lo rende anche un pochettino fresco diciamo quasi verde però che assolutamente danno densità e potenza a questo profumo ci sono assolutamente dei muschi in sottofondo dei muschi presenti sul fondo probabilmente molto carichi molto potenti e che hanno moltissime sfaccettature quindi questa è una Megamare io ve lo consiglio appunto nelle sere d'estate per quello che riguarda me però dovete stare attenti perché è comunque un profumo potente è un profumo molto potente dovete stare molto attenti io lo uso in quelle occasioni usatelo anche d'inverno in autunno provate le fragranze sperimentate però appunto occhio ragazzi che dire su questi due profumi sicuramente sono dei best seller di questo brand Megamare forse un po' di più comunque qua abbiamo da un lato il re del mare per quanto mi riguarda della profumeria di nicchia e da questa parte abbiamo se si può dire così il re del fuoco il re della terra quello che volete veramente due capostipiti della profumeria e del brand Orto Parisi indossarli vuol dire comunque farsi notare farsi sentire volersi diciamo mettere in mostra quindi quindi se voi scegliete di utilizzare questi due o qualsiasi altro Orto Parisi o Naso Matto sappiate che state andando incontro a delle occhiate certe sia che queste siano buone sia che queste siano cattive poi il gusto è soggettivo comunque chi indossa questo è perché vuole farsi notare è perché vuole farsi ricordare vuole essere ricordato quindi questo era il video su Megamare e Terroni presto arriveranno anche singolarmente i video degli altri profumi di Orto Parisi vi consiglio questo brand è uno dei miei due brand preferiti come sapete l'altro è Naso Matto io spero che questo video vi sia piaciuto spero che l'audio sia stato buono spero che la qualità di video sia stato buono magari qualche errore vedo anche dall'editing adesso cosa fare e noi ci vediamo in un prossimo video mi raccomando mettete mi piace a questi video che l'algoritmo almeno ci fa salire guardate tutti gli altri video che vi siete persi grazie per il supporto attivate la campanellina guardate le live quando ci sono ciao ragazzi ci vediamo in un prossimo video